Yoga per la pace. Nadi Shuddhi. Le parole Nadi Shuddhi letteralmente significano pulizia dei Nadi. Quando diciamo Nadi non parliamo dei 72.000, perché questi 72.000 sono delle diramazioni dei due Nadi principali, Pingala e Ida. 36.000 si diramano da Pingala, 36.000 si diramano da Ida. Questa è la fisiologia a livello energetico di un essere umano. Quando diciamo Nadi Shuddhi parliamo fondamentalmente di pulire Pingala e Ida, in modo che il sistema energetico possa lavorare in equilibrio. Esiste una connessione tra il tuo respiro e la tua struttura mentale. Portare equilibrio nei tuoi pensieri è un passo molto importante che devi fare se vuoi portare equilibrio nelle tue attività, nelle tue emozioni, nei risultati della tua vita e nell'impatto che avrai nella vita di altre persone. La pratica dei Nadi Shuddhi ricopre un ruolo importante. Ecco alcune indicazioni per stabilire le condizioni ottimali e incrementare notevolmente la tua recettività alle pratiche. Per favore assicurati che il cellulare sia modalità silenziosa o spento. È consigliabile non iniziare la pratica a stomaco pieno subito dopo aver consumato un pasto. Siediti con la schiena comodamente retta, mani non incrociate con i palmi aperti rivolti verso l'alto. Queste indicazioni ti prepareranno a entrare in uno stato di alta ricettività e ottenere quindi i massimi benefici dalle pratiche. Queste pratiche sono sicure, semplici e possono essere eseguite da chiunque. Le pratiche che impareremo possono essere esercitate da chiunque abbia un'età corrispondente superiore a 7 anni. Se porti gli occhiali durante le pratiche di yoga per favore rimuovili e tienili da parte. Come praticare il Nadi Shuddhi? Per favore osserva la dimostrazione. Siediti a gambe incrociate con la schiena comodamente retta, occhi chiusi. Appoggi la mano sinistra in mezzo al tuo grembo, rilassata, con il palmo rivolto verso l'alto. Usa soltanto la mano destra, usa il pollice e l'anulare, piega l'indice e il medio. L'anulare e il mignolo sono retti e si toccano. Ora blocca la narice destra con il pollice e inspira attraverso la narice sinistra. Quando l'ispirazione è completa, espira dalla stessa narice. Allo stesso modo, con l'anulare blocca la narice sinistra e inspira dalla narice destra. Quando l'ispirazione è completa, espira dalla stessa narice. Di nuovo blocca la narice destra, apri la sinistra, inspira ed espira. Continua così. Concentrati sul tuo respiro. Quando pratichi in Adisciudi la cosa più importante è ispirare ed espirare completamente, il più lentamente e gentilmente possibile per te. Non dovresti emettere alcun suono mentre inspiri o espiri. Perché questo accada, devi solo ricordare un punto fondamentale per far sì che il Nadisciudi avvenga da sé. Cambierai dito sempre e solo dopo ogni espirazione. Questo significa che da qualsiasi narice ispirerai, dalla stessa narice ispirerai. Pratica il Nadisciudi per un minimo di quattro minuti. Alcune correzioni della pratica. Non tenere la mano sinistra appoggiata sulla coscia. La mano sinistra deve essere tenuta rilassata in mezzo al tuo grembo. Per chiarire, della mano destra userai soltanto il pollice e l'anulare. L'anulare e il mignolo sono eretti e si toccano. L'indice e il medio rimangono piegati. Se non riesci a tenere a annulare mignolo diritti, fai il meglio che puoi. Inoltre, c'è una tendenza a tenere la testa passa girata di lato. Inconsciamente si può inclinare da una parte o dall'altra. La testa deve rimanere diritta. Se mantieni questa posizione, il tuo sistema raggiungerà un equilibrio molto rapidamente. Assicurati di non premere troppo forte sulla parte inferiore della narice. Individua l'osso del setto nasale della narice destra. Se appoggi il pollice un millimetro sotto questo punto con una minima pressione, la narice si chiude completamente in modo da non permettere all'aria di uscire. Assicurati di non trattenere il respiro, di non respirare normalmente o superficialmente. La respirazione deve essere profonda, devi inspirare ed espirare completamente. Ora faremo insieme il Nadi Shudhi. Siediti a gambe incrociate con la schiena comodamente retta. Se non riesci a sederti a terra, puoi sederti su una sedia con le gambe incrociate all'altezza delle caviglie. Appoggia la mano sinistra in mezzo al tuo grembo, rilassata con il palmo rivolto verso l'alto. Usa soltanto la mano destra. Usa solo il pollice e l'anulare. Piega l'indice e il medio. L'anulare e il mignolo sono retti e si toccano. Chiudi gli occhi. Ora blocca la narice destra con il pollice e inspira attraverso la narice sinistra. Quando l'ispirazione è completa, espira dalla stessa narice. Allo stesso modo, con l'anulare blocca la narice sinistra e inspira dalla narice destra. Quando l'ispirazione è completa, espira dalla stessa narice. Di nuovo blocca la narice destra, apri la sinistra, inspira ed espira. Continua a farlo finché non ti chiedi di fermarti. Concentrati sul tuo respiro. Inspira ed espira completamente. Inspira ed espira il più lentamente e gentilmente possibile. Assicurati che la schiena sia comodamente retta. Assegurati che la testa sia diritta. Concentrati sul tuo respiro. Assicurati. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi terminare con un'espirazione dalla narice sinistra e puoi fermarti. Per favore apri lentamente gli occhi. La pace non è l'obiettivo finale della vita. È il requisito più basico. Se lo vedi come l'obiettivo finale della tua vita, otterrai solo di riposare in pace. Grazie a tutti.